Le mani non mentono, quello che sanno, fanno. Possono nascondere un sentimento aggrovigliandosi tra loro, ma non mentire. I volti sì, a cominciare dai tentativi per ingannare e alterare lo scorrere del tempo, modificando pelle e muscoli. Un taglio qui e uno svuotamento lì, sapienti e costosi ritocchi estetici. Le mani, anche ferme, non possono ingannare, testimoniano il tempo vissuto. E il tempo è una parola forte da annotare e interpretare quando scorriamo le foto. Verrebbe naturale scorrere le immagini e poi provare a distribuirle secondo coppie di antinomie, mani di donne e mani di maschi, mani che implicano forza per demolire, incidere, tagliare, martellare e mani che scorrono e lisciano con la leggerezza di una piuma, mani per lavori necessari a nutrirsi e mani per prodotti volutari. Fuorviante è attardarsi su quello che fu il guizzo iniziale del progetto alla base di questo libro, la rievocazione di antichi mestieri in una fiera medievale. Se non fosse per gli abiti datati in secondo piano, non distingueremmo molto tra il passato ed il presente di un mestiere che stacca e cuce una pelle conciata, oppure tesse o ricama un tessuto. Mestieri ed artigianato, oggi di nicchia in alcuni casi, ma non per questo morti. Se proviamo a stringere gli occhi dietro il primo piano delle mani, oltre il bordo delle foto, possiamo scorgere le esigenze combattute in una comunità umana tra il distinguersi e il continuare a vivere raggruppati in una città. In fogge antiche o in un comodo laboratorio odierno, gli artigiani fotografati vivono di e per una città, o ne rievocano le fattezze ed i modi antichi, i muri bisognosi di mani che li restaurino oggi. Gli artigiani vivono perché altri possano distinguersi e adobbarsi con un cappello di piume, pretendere una borsa o una maschera unica, perché i cittadini si mostrano sul palcoscenico di uno spazio pubblico urbano. E ancora, a cosa servirebbe il suono di uno strumento che passa dalle mani degli utaio? Quante generazioni di padri in figlio, se non per riverberare in una stanza o in una sala di fronte agli spettatori oggi? Perché le mani non mentono.